Siamo qui con Luciana Dell'Antonio, insegno matematica e scienze in una scuola secondaria di primo grado. E è venuta a raccontarci la sua esperienza che riguarda il mondo, diciamo, generalmente delle tecnologie didattiche, ma sentiamo di che cosa si tratta. Sì, allora, i miei studenti, perché hanno agito in prima persona, hanno definito, hanno studiato un ecosistema fluviale utilizzando il web, Skype, le mail, per interagire con esperti esterni. Perché il mio obiettivo primario era quello di connettere i contenuti curricolari con la realtà circostante e propria dei ragazzi, dei miei alunni. Le tecnologie mi hanno consentito di fare questo passaggio perché in una prima parte del progetto i ragazzi hanno ricercato sul web, fatto attività laboratoriali, definito parametri. E in un secondo momento si sono confrontati, cioè hanno confrontato i dati, il loro possesso, con esperti esterni che perciò hanno domandato via mail, ma anche via Skype, una conferma del percorso sperimentale che avevano fatto in classe. Quindi avete portato la tecnologia in classe, l'avete messa al servizio della didattica, soprattutto con un approccio molto pragmatico che è servito ai ragazzi a mettersi proprio in contatto con chi poi ha delle risposte a delle domande. E i ragazzini come hanno reagito a questo rispetto a una didattica più tradizionale? Ci sono degli aneddoti, dei racconti che ci può fare, che mostrano come magari cambia anche il modo di apprendere utilizzando determinati strumenti? Allora, in prima battuta i ragazzi erano molto timorosi perché non capivano come un mezzo che loro utilizzavano per gioco, per esempio a casa, potesse essere utile nella prassi didattica. Guardandoli, osservandoli dall'inizio alla fine del percorso didattico, io ho rilevato una maggiore autonomia, un maggior senso critico nel definire quale informazioni, reperirete nel web per esempio, potessero essere utili alla loro ricerca. E questo è un obiettivo fondamentale, cioè imparano, capiscono come il mare di informazioni che vengono dati attraverso il web possono essere selezionate e utilizzate in maniera significativa. Quindi qui si apre un tema molto grande di cui si discute molto, quindi questa abilità dei ragazzi di usare le tecnologie che non vuol dire usarle con consapevolezza, quindi magari sono molto veloci ma poi rispetto ai contenuti che si trovano davanti spesso si comportano in maniera diciamo superficiale. E in questo viene recuperato in toto il ruolo del docente, cioè aiutare i ragazzi a capire come in questo caso muoversi nel web, a diventare cittadini del web. Sì, ma la cosa molto interessante è che io mi sono posta come mediatore, cioè all'inizio loro si trovavano di fronte a questo mare di informazioni, verso la fine del percorso loro stessi riuscivano a selezionare ciò che gli serviva e questo è molto importante. Ci può raccontare un aneddoto che era particolarmente colpita in questo percorso? Allora all'inizio della prima lezione io ho detto bene ragazzi avete a disposizione il web, vedete cercate informazioni che possono essere quintali, possiamo stampare 50 pagine, 60 pagine eccetera. E alla fine invece loro selezionavano proprio, l'ho detto, 10 righe, nel senso che connettevano le conoscenze che avevano appreso nel percorso precedente e le integravano con quelle reperite. Quindi scegliere, selezionare, scremare? Sì, in modo autonomo soprattutto. Attraverso una mediazione? Sì, certo, io ero sempre lì e proprio io volevo assumere un ruolo di mediazione perché volevano, volevo che si appropriassero autonomia ma anche di un modo di lavorare, autonomo soprattutto. E hai in mente altri progetti, cioè continuerà a utilizzare questa metodologia? Sì, sì, è un po' il mio approccio nell'organizzazione delle mie unità di apprendimento, unità didattiche, porre l'alunno sempre al centro del percorso. Loro definiscono delle ipotesi che a mano a mano che si va avanti col processo di conoscenza vengono da loro stesse verificate. Ed è un approccio che io prediligo quando è possibile, ma è possibile quasi sempre. Bene, noi ci auguriamo di trovarla qui il prossimo anno, magari con un'altra esperienza da portare. Senza altro. Grazie. Grazie.